Lo ringraziamo per questo. Ministro, benvenuto, buongiorno. Grazie per l'invito, buongiorno, buon viaggio a chi è in macchina. Come avrà sentito il Ministro, moltissime domande sulla flat tax, alla quale arriveremo tra pochissimo. La prima domanda, a leggere un po' di giornali stamane, mi sembra che stia prevalendo la linea del dialogo con l'Europa. È una lettura corretta, Ministro? Sì, sì, noi non abbiamo mai voluto scontrarci o litigare, abbiamo voluto, e questo continueremo a fare, rimettere al centro il diritto al lavoro per gli italiani. Il diritto alla salute, il diritto alla vita, il diritto al risparmio, quindi noi vogliamo provare a mantenere il rispetto di tutti i vincoli, di tutti gli impegni in attesa di cambiarli, perché sono vincoli che hanno raddoppiato il debito pubblico nell'arco di poco tempo, perché se la gente non lavora, non paga le tasse, il debito pubblico sale. Lo dico all'ascoltatore che si chiedeva come si fa a controllare il debito pubblico che grava sui nostri figli, facendo lavorare gli italiani. Però, Ministro, negli anni 70-80 è cresciuto ancora di più e non c'eravamo l'euro. Guardi, negli ultimi dieci anni, dal 2008 al 2018, quindi con tutti i governi, anche tecnici, Monti, la legge Fornero, i sacrifici, è aumentato di 655 miliardi di euro, solo dal 2008 al 2018. C'è stata una crisi economica tremenda, però questo ricordiamo. No, ma guardi, molto semplicemente, se chi ci ascolta non lavora, non va a fare la spesa e non paga le tasse, il debito cresce. Non occorre un laureato alla Monti, per intuirlo, occorre uno con la terza media. E quindi noi vogliamo abbassare le tasse a partire dai redditi più bassi, come diceva un ascoltatore, l'ipotesi di flat tax su cui stiamo lavorando riguarda soprattutto le famiglie monoreddito con figli, con un reddito fino a 50 mila euro all'anno, per far ripartire consumi e lavoro. Ecco, Ministro, non a caso sui giornali stamani c'è scritto che l'ipotesi sarebbe 15% per i redditi familiari fino a 55. Lei adesso ha detto 50, ma se no discuterete su questo. Questa è l'ipotesi. È una delle ipotesi in cui stiamo lavorando, insieme alla rimodulazione di alcune aliquote IRPEF, insieme al fatto già previsto di portare a 100 mila euro la quota di fatturato per partite IVA, artigiani, commercianti, piccoli imprenditori, liberi professionisti su cui applicare una bassa unica. Quindi dai 65 ai 100 sarebbe, questo è il punto. Fino a 65 mila euro si paga il 15%, fino a 100 mila euro si paga il 20%. E la gente scommette. Hanno aperto 200 mila nuove partite IVA all'inizio. Ministro, Tri è d'accordo? Quest'anno. Sì, sì, ma se si lavora di più lo Stato incassa di più. Quindi questo è già previsto. Ovviamente non c'è nulla di facile, ovviamente a Bruxelles c'è qualcuno che punta il dito contro l'Italia. Ovviamente la ripartenza dell'economia italiana e dell'industria italiana preoccupa. Qualcuno che negli ultimi anni ha usato le normative europee per frenare il potenziale italiano, però... Ministro, allora, sul tappeto, a quello che leggiamo, ci sarebbe un aggiustamento di 2 miliardi, sarebbero le spese dei ministeri congelati. A leggere il Sole 24 Ore, però, Tria starebbe lavorando su 8 miliardi, perché ci sarebbero anche 3 miliardi in eccesso da quota 100 e reddito di cittadinanza, che tutti, sia il Movimento che la Lega, vorrebbero usare per altre cose. Ma può essere che invece Tria li presenti per la riduzione del debito? Sui giornali ci leggono tante cose, sui giornali ho perfino letto su Repubblica, su Repubblica Topolino. Ho letto che io negli Stati Uniti avrei avuto intimazioni da parte di Trump di continuare con i gasdotti. Adesso secondo voi... Non è vero? Io vado... ma è falso, ma è una bombuno. Io dovrei passare la metà delle mie giornate smettendo le bufale che leggo sui giornali, ma faccio il ministro dell'interno o altro da fare. Mi spiace per alcuni giornalisti italiani che poi si lamentano che la gente lega sempre di meno. Però sono 2 miliardi e basta quindi come riduzione del deficit? 2 miliardi che erano già previsti. Poi lo Stato fortunatamente sta incassando di più in questo 2019, più IVA e più IRPEF, sta incassando di più dall'evasione fiscale, ma non dal panettiere. Penso al miliardo e 300 milioni di euro di transazione della società del lusso francese Kering Gucci, che fatturava in Italia e pagava all'estero. Perché l'evasione fiscale non vuol dire andare a rompere le palle all'edicolante o al gelataio. Per lo scontro di 1-2 euro significa andare a beccare i grandi evasori, evidentemente. Quindi l'economia italiana sta tornando a crescere in un momento in cui l'economia italiana si muove. Serviranno come una forma di garanzia, diciamo, nel negoziato con la Commissione europea. Ministro, però senta che ci ha risposto il Presidente Tagliani pochi minuti fa ai nostri microfoni sulla questione dei 2 miliardi. Ecco le sue parole. Io credo che i 2 miliardi non siano sufficienti per evitare la procedura di infrazione. Detto questo, ci sono molte cose... No, questa è una frase importante, Presidente. Lei dice che i 2 miliardi non basteranno. Io temo che non siano sufficienti, che servano di più. L'importante è che ci sia anche una strategia per le riforme nel nostro Paese. Se non bastassero, Ministro Salvini? No, ma guardi, io ricordo a chi ci ascolta che l'Italia è uno dei Paesi che paga di più in Europa. Ricordiamocelo sempre, ogni giorno che il Buon Dio ci regala su questa terra, che ci sono alcuni Paesi in Europa che incassano e prendono, e ci sono altri Paesi in Europa che pagano. Noi siamo fra quelli che pagano. Ora, avere il ditino da anni ed essendo tra quelli che pagano di più è abbastanza seccante anche perché noi stiamo dicendo che vogliamo usare i soldi degli italiani per abbassare le tasse agli italiani, non per andare a giocarli al gratta e vince o al super enalotto. Perché se non riusciamo ad abbassare le tasse alle imprese e alle famiglie italiane, è difficile che l'eponomia riparta. Il vostro, non dico sogno, però desiderio nella trattativa sarà Giorgetti alla Commissione Concorrenza? Ma guardi, i nomi arrivano dopo, ma interessa che ci sia in Commissione Europea un italiano che faccia gli interessi dei cittadini italiani, cosa che negli ultimi anni non c'è stata perché mi sembra che al di là che fosse stata indicata da Renzi e del Partito Democratico la dottoressa Mogherini non si sia fatta notare per interventi a favore degli artigiani, degli agricoltori, degli imprenditori, dei medici o degli operai italiani. Va beh, può completare un altro però, Ministro, lo sa. Ma appunto, qualcuno ha sbagliato a mandare a rappresentare 60 milioni di italiani una signora che si occupava di politica estera. Ma quella deve occuparsi degli interessi degli europei, non degli italiani, Ministro. Eh, ma il commissario tedesco fa gli interessi dei tedeschi, il commissario francese fa gli interessi dei francesi, mi domando perché qualcuno nominato dagli italiani poi si dimentichi di essere italiano. Il commissario italiano farà anche l'interesse del popolo italiano, mi sembra naturale. Ci sono tre domande che arrivano anche dagli ascoltatori che riguardano il suo di Castero. Anzitutto, stamane si legge sui giornali, in parte anche sulla sua odiata Repubblica, però la Sea-Watch... Ma figurati, io non odio nessuno, semplicemente mi incuriosiscono quelli che si inventano notizie inesistenti. La Sea-Watch è a largo e lei ha detto che non sbarcheranno mai i 43, però nel frattempo 45 con un barchino di legno a Lampedusa sono arrivati, così come non entra più nessuno, ma dalla Germania sono arrivati i 1200 che, essendo sbarcati in Italia per le regole di Dublino, avevano diritto a fare domanda da noi. E quindi non è che... E' una simpatica eredita del passato. Questi sono parte degli sbarchi avvenuti negli anni passati, che in base al regolamento di Dublino dobbiamo riamettere. I dati degli sbarchi a stamattina sono fermi a 2200 rispetto ai 16.000 dello stesso giorno dell'anno scorso. Però Ministro, che senso ha bloccare la Sea-Watch e in realtà far sbarcare i barchini? La Sea-Watch è una ONG che se ne frega delle leggi e fa traffico di esseri umani. E io ho il permesso di attracco a un porto italiano, a una nave olandese, di un'associazione tedesca, che per la terza volta, perché la Sea-Watch è alla terza volta che se ne frega delle indicazioni della Guardia di Finanza, della Marina Militare, della Capitaniera di Porto, parte dalla Libia per arrivare in Italia per fare traffico di esseri umani, io l'autorizzazione allo sbarco non la do né adesso, né a Natale né a Capodanno. Ministro Salvini, un tema molto presente anche qui sui media e sui giornali in queste ore. Roma, i giornali romani hanno lanciato una sorta di attacco a Virginia Raggi che stamane risponde sul messaggero e però molti titolano è Matteo Salvini aver lanciato la vera OPA sulla capitale. Siamo pronti con un programma, è vero Ministro? Ma guardi, l'attacco all'amministrazione dei Cinque Stelle a Roma non la lancia un giornale o Salvini, è quotidianamente, ahimè, lamentato da migliaia di cittadini romani, che peraltro hanno anche votato il mese scorso, hanno votato in maniera evidente, c'è insoddisfazione, insomma dopo un anno uno può aspettare un cambiamento, dopo due anni può aspettare un cambiamento, al terzo anno, dal punto di vista dei rifiuti, dei trasporti pubblici, dei parcheggi, del traffico, delle buche delle strade, della manutenzione dei giardini, della cura della città. Ho capito, ma lei chiede delle dimissioni quindi, Ministro? No, ma chi sono io? Io da Ministro dell'Interno collaboro col Comune di Roma per mandare poliziotti, ne abbiamo mandati 136 da ottobre, accendere telecamere, strade sicure, scuole sicure, io faccio il Ministro, prendo atto del fatto che da lavoratore in questa città e da amante di questa città la vedo trascurata e poco curata e poco seguita e quindi è chiaro che i nostri consiglieri nei municipi, nei quartieri e in Comune stanno preparando un progetto per una Roma diversa. Mi sembra molto chiara la risposta del Vice Premiere, Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che ringraziamo per essere stato con noi stamani. A Radio Anch'io, Ministro, buona giornata. Buona giornata e buon lavoro. Grazie a tutti.